Radio Radicale, siamo con Vladimir Osatta, saggista, si occupa di storia contemporanea, è autore di numerosi saggi, tra questi ricordo, anche perché ce l'abbiamo qui, i nemici della Repubblica, storia degli anni di piombo, per parlare del 2 agosto del 1980. Domani sono 43 anni dalla strage alla stazione di Bologna, domani la Camera ricorderà quel tragico e drammatico fatto per la storia del nostro Paese con delle emozioni e con una commemorazione. In questa legislatura credo che ci sia anche l'ipotesi di una proposta di legge di commissione d'inchiesta su questo a firma di Federico Molligone, se non ricordo male. Nel corso degli anni, nonostante si sia arrivati alla sentenza sui mandanti, non si sono riusciti a individuare, sugli esecutori, scusate, non si sono riusciti a individuare i mandanti. Allora, a che punto siamo? E soprattutto ritiene che ci sia la possibilità di arrivare a una verità? Alla verità. Buongiorno a tutti. Il quadro delle conoscenze delle sentenze relative alla strage di Bologna del 2 agosto del 1980 attualmente è in movimento, sia sotto il profilo giudiziario che sotto il profilo storico. E come lei accennava, è in corso un processo, cosiddetto processo mandanti, sul piano giudiziario, che vede un imputato principale vivente, Paolo Bellini, in veste di esecutore e altri personaggi, invece tutti i defunti, in veste di mandanti. Tra questi, essenzialmente, Licio Gelli e Federico Umberto D'Amato. Licio Gelli, capo dell'allogio P2, Federico Umberto D'Amato, importante personaggio degli apparati di sicurezza e di formazione italiani, e fu direttore, di fatto, dell'ufficio affari riservati per molti anni, poi comunque, essendo un personaggio di grande capacità, rimase sempre in auge, anche quando passò alla polizia postale di frontiere e continuò a dare i suoi contributi ad alto livello per lunghi anni ancora. Questo processo mandanti, quindi, in qualche modo, si pone sulla scia dei processi che hanno condannato, in veste di esecutori, Mambro, Fioravanti, ormai anche Cavallini, con sentenze definitive, mentre si è invece in primo grado per la condanna di Cavallini, si entra adesso nel secondo grado, e quindi sia il processo mandanti, che è fondamentale preso da conto Bellini, sia il processo Cavallini, hanno avuto una sentenza di primo grado ed entrano quest'anno nella fase del secondo grado. Gli sviluppi in sede storico, invece, sono diversi, nel senso che riguarda essenzialmente il fatto che si è delineata una pista alternativa rispetto a quella nera, cioè dei fascisti, una pista che essenzialmente guarda al fronte popolare di liberazione della Palestina e sarebbe originata dalla crisi del Lodomorum, un accordo sotterraneo che esisteva, il fatto nei primi anni 70, tra Italia e appunto palestinesi, che prevedeva libertà di movimento per loro in Italia, e, diciamo, sostanzialmente impunità, perché non colpissero gli interessi italiani sul nostro territorio. Cosa che non è successa negli anni 80? Cosa che non è successa negli anni 80? Ricordiamo le attentati, credo, a Via Barberini, a Fiumicino, a strage di Fiumicino. C'era stata appunto una strage a Fiumicino che è stata fatta, con probabilità, da elementi palestinesi che non erano stati inclusi nella versione originaria dell'accordo e che appunto dimostrarono in quella maniera la necessità... Tra chi le lauro? Qui parliamo degli anni 80 con la gira lauro. Sì, sì, ho citato anni 80. Ecco, sì, dicevo, bisogna mettere uno spartiacque nel 1979, perché nel 1979, a novembre, a D'Ortona, vengono arrestati i personaggi italiani dell'area della zona di Operaia che trasportano gli armamenti, in parte di missile, per conto appunto dei palestinesi. Questo arresto provoca una forte reazione da parte del frutto popolare di liberazione della Palestina che chiede alle autorità italiane, le quali vorrebbero mandare a processo, quindi anche il palestinese Abu Anze Saleh, che è il loro plenipotenziale in Italia... Viene questo novembre 79? Sì, novembre 79, esattamente. Allora, dicevo, le autorità italiane non intendono in questo caso applicare l'automoro in nessun tipo di accordo, in nessun tipo di, diciamo così, salvaguardia, in salvagondotto, nessuna immunità per i responsabili di questa vicenda, li mandano a processo e i palestinesi sin dall'inizio protestano in forma riservata con gli italiani perché l'accordo era appunto non di dominio pubblico e che, poiché non ricevono risposta da parte delle autorità italiane, a gennaio del 1980 si fanno via ufficialmente mandando una lettera al Tribunale di Chieti nella quale chiedono proprio formalmente di liberare Saleh, di restituire il missile o se non possono, se è possibile restituire il missile di indennizzarli nelle cifre dei costi della riva. Cioè, volevano i soldi per il missile? Volevano i soldi per il missile, se fosse stato possibile restituire il missile stesso. Chissà quanto costava? Eh, costava, insomma... Vabbè, un missile costa parecchio, io non l'ho mai comprato, però, infatti, infatti. Ecco, quindi, poiché l'Italia però tiene duro e nega addirittura di avere accordi con i palestinesi. Incredibile, eh? È incredibile. L'Italia che tiene duro... Ecco, e appunto, è proprio questa eccezione che ha portato a questa crisi del cosiddetto Lodomoro per questo arco di tempo e quindi da gennaio fino ai mesi successivi abbiamo una escalation di minacce gravissime da parte dell'FP e dell'EPI di attentati, di retorsioni nei confronti dell'Italia che arrivano, credo più, attraverso il canale del colonnello da Giovannone, che era un ufficiale del Sismi di stanza a Beirut, dove in quel momento i palestinesi avevano il loro quartiere generale e che riferisce all'Italia stessa. Abbiamo un episodio, un documento, in questo senso, ancora del 11 luglio del 1980, dopodiché il 2 agosto, come sappiamo, avviene la strage alla stazione di Bologna. Quindi i palestinesi, diciamo, che avevano purtroppo un movente per colpire l'Italia dal momento che... Allora, vediamo che cos'è questo. Questo è un... 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 Allora, siamo... Il 1980. Allora, provo a leggerla. Per opportuna notizia si comunica che Fonte Qualificata ha fatto conoscere che la condanna dell'arabo Abu Anseh Saleh... Condannato in primo grado, infatti. Ha determinato negative reazioni negli ambienti dell'FFLP e non viene escluso che, virgola, da parte della stessa organizzazione possa essere tentato, in qualche modo, una ritorzione nei confronti del nostro Paese ed intraprese azioni dirette anche a liberare il predetto straniero. al signor direttore del SISD, riservata personale, doppia busta a mano. Quindi, Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, con tanto di protocollo. Sì, sì, esatto. Questo documento, dicevo, è semplicemente l'ultimo in un'opera tecnologico di una serie con minacce forti, esplicite, in cui si parlava proprio anche di attentati, di colpire un aereo e altre cose del genere. Quindi erano attentati gravissimi che venivano minacciati. Sappiamo, appunto, che poi avvenne Bologna il 2 agosto del 1980 e, come vediamo, ancora alla data dell'11 luglio del 1980, i palestinesi continuavano a dolersi e a minacciare l'Italia. Sappiamo, poi, che Salè è stato, di fatto, scarcerato nel 1981, ha lasciato l'Italia e, poi, per il resto, ha vissuto praticamente indisturbato. Certo. E, successivamente, appunto, anche gli accordi con l'Italia sono stati... E' stato liberato, Salè, nel 1981, nell'agosto del 1981, sotto ferragosto. Ho capito, sotto ferragosto. La scomparsa dei due giornalisti italiani, De Palo e... Tony, sì. Tony, quando è avvenuta? Allora, avviene all'inizio di settembre del 1980. Quindi, un mese dopo, praticamente, circa un mese dopo. Sì, a circa, sì, esatto. Quindi, quando Salè era ancora... Quando Salè era ancora in carcere. Cosa erano andati a fare? Loro erano andati in Libano? Dunque, sì, erano andati in Libano. Tra l'altro, erano andati lì con un invito formale da parte del rappresentante dell'OLP alla Roma. E erano giornalisti d'inchiesta. Si occupavano, quindi, di varie cose, vari traffici. Avevano scritto, per esempio, degli articoli in cui attaccavano anche gli americani. Ma erano, veramente, Graziella De Palo, un personaggio che è ancora molto giovane, ma già piuttosto auguroito, che non guardava. Era radicale. Esatto. Non guardavano in faccia a nessuno e arrivarono sul posto. E dopo pochi giorni, che si trovavano nella zona sotto il totale controllo palestinese, scomparvero apparentemente nel nulla. Si interessò il nostro ambasciatore per cercare di capire di cosa si trattasse. E arrivò alla conclusione che era stata fatta sparire, appunto, dai palestinesi, d'altra parte, in una zona come quella. E' difficile pensare a cose diverse. Poi è difficile ritrovarli anche. Oltretutto. Il colonnello Giovannone del Sismi, però, si attivò contro l'ambasciatore. Gli condusse una guerra alla sotterranea, che è stata poi scoperta nel corso del tempo. E' stato portato addirittura a provare dei veri e propri reati, per cui il Giovannone è stato portato sotto processo insieme al maresciallo che lo aiutava nell'intercettare le comunicazioni dell'ambasciatore, eccetera, eccetera. Mi si è scoperto che Giovannone, con l'intesa con la falanesina a Roma, spiava e si contrapponeva all'ambasciatore D'Andrea, il quale a un certo momento mi si è spedito in Danimarca su due piedi, senza apparente motivazione. E' tanto che appunto il procedimento, poi che era stato il procedimento penale, che fu iniziato contro Giovannone, si concluse con la condanna del maresciallo, mentre Giovannone era da poco deceduto e solamente per questo non fu condannato. Ma le parole che giudicebbe nei confronti anche di Giovannone e Defunto furono inequivocabili. C'è chiaro che il maresciallo aveva fatto tutto su sua disposizione. Quindi, nel caso di Tony De Palo, vediamo come l'Italia abbia ripreso a proteggere i palestinesi anche di fronte a un caso come questo di questa sparizione di due giornalisti che deve essere considerato un delitto a tutti gli effetti. Quando ci fu la strage, adesso io non so se il giorno dopo, due giorni dopo, corsicando al Senato, il 4 agosto, e lui disse... Se non c'erano dubbi, la strage era nera. Com'è possibile che costiga che magari forse questo messaggio... non so se l'avremmo letto. Ah, se avesse letto questo? Allora, non sono in grado di sapere se avesse letto esattamente questo messaggio qui. Però, quello che noi abbiamo appreso negli ultimi tempi, per questo anche dicevo che il quadro delle conoscenze storiche è in evoluzione, che noi sappiamo che il governo inizialmente, così che non erano al corrente di questa vicenda, così che ha poi detto in passato che si era reso conto di qualche stranezza che gli faceva pensare che ci fosse qualche cosa, ma non era stato direttamente informato neppure nella vetroveste di Presidente del Consiglio, che è la carica che aveva nel 1980. Esattamente, esattamente. E che aveva anche appunto nel 1979. E quindi, a un certo punto, venne convocata, sulla fine del 79, una riunione notturna, diciamo pure drammatica, con i vertici del sismi e la presenza appunto di consiglia stesso, dell'allora sottosegretario con deleghe servizi Mazzola, nella quale i politici, avrendo compreso che qualcosa non tornava, si fanno rivelare questa storia dell'Odomoro che il sismi faceva persino a loro, ecco. E quindi, diciamo, se si consiglia sapesse questo messaggio, non glielo so dire. Però, la escalation dei documenti è chiara, stanno appunto venendo fuori, sono stati desegretati proprio in questi ultimi tempi. Cioè, tutte le carte del colonnello Giovannone sono rimaste coperte da segreto di Stato, da lui opposto negli anni Ottanta, confermato ripetutamente da tutti i presidenti del Consiglio, con durata quindi fino al 2014, anno della scadenza del segreto di Stato. Alla scadenza del segreto di Stato, il documento è stato comunque sottoposto a classificazione, cioè non è che è diventato divulgabile automaticamente. Questa classificazione, poi è venuta meno solamente in tempi recenti, è stato versato all'Archivio di Stato e messo a disposizione degli studiosi, insieme ad altre carte che sono state versate. Abbiamo un totale di 195 documenti ormai, come da risso conto della Camera dei Deputati di giovedì 27. Certo. O lì le vado anche, ecco va bene qui, ecco come si vede, questo Antoniozzi, sì esattamente, nell'ambito di una discussione, insomma fa presente ecco lo Stato proprio. Hanno tante indicazioni, dite che questo è il 27 luglio, quindi qualche giorno fa, sì sì sì. In anticipo all'Archivio centrale 163 documenti inerenti ai rapporti SIS-MI-ORP, già coperti da segreto di Stato, ok, tali carte vanno così ad aggiungersi al versamento di 32 documenti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Roma nell'ambito del nuovo procedimento relativo al disastro aereo di Ustica e che coprono un periodo di tempo che va dal 75 all'85, arrivando a un totale di 195 documenti. Quindi questo è il quadro più aggiornato che esista in questa situazione. Quindi abbiamo due indirizzi sostanzialmente divergenti, perché appunto la magistratura bolognese va verso la ricerca di mandanti, mantenendo fermo che gli esecutori siano Fioravanti e Mambro. Questa ricerca di mandanti viene considerata dalla sentenza stessa del processo mandanti, essenziale perché viene considerato illogico e insostenibile che i fascisti avessero un movente valido per fare la strage in Bologna del 2 agosto 1980. Quindi si va alla ricerca di qualcun altro, in questo caso si vanno a cercare Gelli e Federico Umberto D'Amato. Considerando come si muovevano in quel periodo la Mambro e Fioravanti, lei che idea si è fatta? Allora, io mi sono fatto l'idea che temo che le accuse per le quali Mambro e Fioravanti sono stati condannati con sentenza definitiva siano fragili e non reggano. Si è trattato un processo essenzialmente basato sulle dichiarazioni di tale Massimo Sparti, che gli interessati mi hanno confermato, di un incontro sul quale è lecita, anzi doverosa, avere dei dubbi che si sarebbe svolto in pieno agosto nel quale i due, chissà per quale motivo, si sarebbero fatti scappare proprio con lui, qualche parola di troppo. Il giorno dopo la strage, quando Fioravanti è andato a chiedergli un documento falso, ha visto che è morto, li avrebbe detto. Esattamente, e lui avrebbe risunto che perciò si riveiva una loro responsabilità per la strage di Bologna. Dicevo, quindi questa è la situazione dal punto di vista giudiziario. Bene fare una premessa. Io ho la sensazione che in questi processi stia influendo un fattore valoriale che invece è malintese e non ci dovrebbe essere. Mi spiego. Fioravanti e Mambro sono due assassini conclamati. Ah certo, con tutto quello che hanno... Esattamente. Per questo non li hanno fatti. Appunto, quindi assassini sono e assassini restano Bologna o non Bologna. E questo deve essere chiaro. Certo. In secondo luogo, l'antifascismo e l'antipiduismo sono valori importanti, ma devono prescindere dalla colpevolezza o meno di Gelli e Federico Umberto Namato per la strage di Bologna. Se l'antifascismo sta, e come giustamente sta, nella Costituzione italiana, è dovuto a tutto ciò che il fascismo era stato, dalle sue origini, fino agli anni 40, in cui la Costituzione italiana fu scritta. Paradossalmente, l'antifascismo resterebbe intatto, andrebbe preservato e onorato, anche se per ipotesi della io-realtà, non fossero mai esistiti Freda, Piazza Fontana, Mambro, Fioravanti, l'antifascismo, bisogna scindere le due cose. Assolutamente. Sul fatto che potessero avere un movente, Gelli e l'alto funzionario degli apparati statali, Federico Umberto Namato, molti comprendono che, al contrario, erano personaggi molto ben inseriti nella società italiana da allora, che avrebbero avuto tutto da perdere, fare questa strage nel 1980, perché? Visto che siamo su Radio Radicale, mi piace portare cosa mi diceva Bordin nel 2018. Allora, l'accusa proponeva un vasto complotto di Gelli e la P2, con gli immancabili servizi deviati ai gruppi vecchi e nuovi del terrorismo neofascista. Momente della strage e la destabilizzazione dello Stato democratico, come avevano già tentato nel 15 anni precedente. Benissimo. Il problema politico è che Gelli, i suoi protettori, i suoi accoliti, al contrario della destra degli anni Sessanta, erano tutt'altro che degli emarginati. Avevano l'acqua che gli andava per l'orto, direbbe Bertani, erano padroni del Corriere della Sera e del Banco Ambrosiano, i loro uomini erano piazzati ai vertici di molti partecipati dello Stato. E poi un'ipotesi del genere tanto azzardata avrebbe avuto il bisogno di prove davvero granitiche che naturalmente i PM non hanno trovato. Massimo Bordin, 4 agosto 2018, Il Foglio, perché non reggono le accuse contro Gelli sulla strage di Bologna. Affirmato Massimo Bordin. Io devo dire che, insomma, sono d'accordo con questo parere di Bordin. Mi sono occupato della strage di Bologna. L'articolo è del 4 agosto 2018. Il 4 agosto del 2018, ma appunto il processo mandanti non era giunto a sentenza, ma era già stato avviato. Quindi dicevo, il processo mandanti è giunto a sentenza ed è un processo che si occupa in gran parte della ricostruzione del contesto storico, visto che interessano ancora più i mandanti nell'economia della costruzione dell'accusatore generale che non la figura di questo Bellini, che è un personaggio delinquente, anche lui ha commesso delitti di ogni genere, ha ucciso, quindi anche nel caso di Bellini non si tratta certo di andare a riabilitare Bellini, si tratta semplicemente di capire sia sua anche la strage, insomma. Dicevo, quindi una ricostruzione del contesto storico che è stata fatta dalla magistratura di Bologna, impostando, a mio avviso, molto male, giungendo a risultati perciò pessimi. Non è stata disposta una perizia di carattere storico, la magistratura si è limitata a rilucare pochissimi contributi di storici, a senso unico, e invece a dare uno spazio al posto degli storici, a personaggi che storici non sono. Il più importante di tutti è il fatto che si sia rivolta al terrorista stragista fascista Vincenzo Vincicueva, viene elevato come la massima autorità in materia di storia con oltre 400 citazioni a suo favore, laddove gli unici due storici citati nella sentenza, che sono Giannuli e Ventrone, ne sommano 100 tra tutti e due loro. Tra l'altro Ventrone, come dice la sentenza stessa, ha in forte consonanza con Vincicueva, almeno dal punto di vista storografico, non intendo dire dal punto di vista politico. Quindi proprio è un processo che va sostanzialmente in senso unico, ecco perché io ho scritto un pezzo che è uscito in questi giorni, che qui si può vedere. Sì, processo mandanti, la storia non si fa con le bolle. 27 luglio 2023, ok. Il riferimento alle bolle... Dove l'ha pubblicato questo articolo? Questo l'ha pubblicato su Key4Bits, un sito online, uscirà presto nella versione anche sulla rivista Democrazia Futura, che è diretta da Bruno Sonalvico. Ora, le bolle a cui faccio riferimento sono le bolle in senso, diciamo così, sociologico, mediatico, nel senso che si tratta delle bolle dietrologiche, di camere dell'eco, cioè quelle situazioni nelle quali una comunità si rinchiude in se stessa, si parlano tutti con la stessa voce, la persona che forma sostanzialmente un coro e sono chiuse a confronti con l'esterno. Ecco, questo è successo. I riferimenti sono tutti, diciamo così, in questo ambito, come si può vedere anche appunto dagli altri apporti, ed è singolare che anche negli altri casi vengano chiamati personaggi a fare la vece degli storici, lo si teorizza pure apertamente, che storici non sono, sono peraltro giornalisti, così di giornalisti appassionati o pubblici... Un po' come si dice di Paolo Mieli, che viene definito come uno storico, invece è un giornalismo. Beh, secondo me Paolo Mieli è storico, certamente molto più storico di quelli che sono indicati qui. Sì, però, insomma, scrive degli articoli sulla storia, però questo non lo fa. Gli articoli sulla storia... Infatti lui è uno storico. Era un docente di storia, prima di dedicarsi prevalentemente al giornalismo, quindi, insomma, in caso di Mieli, secondo me è diverso. Se vogliamo parlare di giornalisti appassionati che si sono occupati da strada di Bologna, per esempio, ci sarebbe dalla parte opposta a quelli qui indicati, ci sarebbe Andrea Colombo, che però non è minimamente menzionato. Ecco, qui, oltretutto, la Corte indica quella che è la sua bibliografia raccolta, raccolta, visto che non c'è neanche una perizia, faccio notare appena 11 titoli, 11, su tutta quella che sarebbe alla bibliografia di tutti gli anni di Piombro, perché come vedete abbiamo cose che riguardano anche il terrorismo di sinistra, abbiamo cose che non c'entrano assolutamente nulla, tipo una biografia di Ligio, abbiamo una cosa sull'incidente a Berlinguerra in Bulgaria, di cui abbiamo parlato anche in questo radio radicale, e abbiamo la bellezza di tre contributi da parte dell'Associazione Familiari delle Vittime, perché questi volumi, come spiega Bolognese stesso nel processo e nella sentenza, sono stati voluti all'Associazione Familiari delle Vittime per rendere divulgabili le loro posizioni, quindi sono dei volumi assolutamente di parte che è stato giustissimo acquisire il processo, perché sono contributi importanti, ma che chiaramente avrebbero chiesto un contributo di altro genere per avere un quadro ponderato, un panorama più completo. Va bene, io la ringrazio molto, per la sua disponibilità, scusate, ringrazio Vladimir Rosatta, con il quale abbiamo parlato della strage di Bologna e delle ultime notizie che riguardano le inchieste e i documenti che sono all'esame degli storici, anche dell'autorità giudiziaria. Se vuoi, io mi permetto di chiudere con un auspicio, che è quello che nelle fasi successive del processo, visto che ci si deve occupare della ricostruzione del contesto storico, lo si faccia in maniera più organica, in maniera più rispettosa, del pluralismo che esiste nel panorama storiografico da questo punto di vista. E sia chiaro che non è una autocandidatura, ci sono tantissimi altri autori, i giudici possono rivolgersi diversi da me, perché le tesi per la quale la strage di Bologna sarebbe un oggetto di un rigugio di anticomunismo, nel 1980, agosto del 1980, quando il Partito Comunista era ormai delegato all'opposizione e in grave crisi, dopo che gli elettori avevano, nel 1979, votato nella maniera che avevano votato, dopo che i partiti avevano preso atto, la democrazia cristiana aveva fatto il preambolo in cui scrudeva il PC dal governo, i socialisti erano stati disposti con la governabilità, governare senza comunisti, il Partito Comunista era immaginato, era chiaramente in declino, quindi è un momento completamente assurdo. Rivolgendosi invece ad altri al di fuori della bolla, forse riusciremmo ad avere un contesto storico migliore. Grazie a vela di pieno santo. Grazie.